E' squalificato Lord Victory, Naile del Sile all'avanguardia, in seconda posizione Olympian Warning. La squalifica per Marcello aveva chiuso da primo favorito. Olympian Warning che si propila all'esterno di Naile del Sile, che dà via libera all'avversario. Passaggio davanti alle tribune. Conduce Olympian Warning, in seconda posizione Naile del Sile, in terza Luccio Depri, in quarta c'è Omero Rock, poi Lido Domar, avanti a Micene Domar. Quindi l'1-2 J.A., poi Leonard Leo, quindi Oro Puro F. e Orvieto in lunga. Vila Indiana, sempre in vantaggio Olympian Warning. Vila Indiana che non muta, entrando sulla retta di pronte, 37 il parziale, per andare a completare il primo giro con Olympian Warning, leader avanti a Naile del Sile. In terza posizione rimane Nuccio del Pri. Primo giro in 18 e spiccioli con Olympian Warning, sempre in battistrada, nei compronti di Naile del Sile. Olympian Warning, Naile del Sile, Nuccio del Pri, Omero Rock, poi Lido Domar, avanti a Micene Domar. Così sulla piegata non ci sono variazioni. Con Olympian Warning, sempre a cadenzare il ritmo, avanti a Naile del Sile. In terza posizione rimane Nuccio del Pri. Completata la prima metà gara, all'avanguardia sempre Olympian Warning, tanto frazione in 31 Netti l'ultima, 31,5 la penultima. Continua all'avanguardia Olympian Warning, in seconda posizione Naile del Sile, in terza Nuccio del Pri. Muove intanto Orvieto, nessuno che lo anticipa, aveva provato Lido Domar. Olympian Warning, che comanda su Naile del Sile, in terza posizione Nuccio del Pri, poi Orvieto che scavalca Omero Rock. Quindi Lido Domar al lato di Micene e Domar. 34 per la Frateone, dal gruppo provano a migliorare anche Oro, puro F. Sempre in vantaggio Olympian Warning. Completato il secondo giro, mancano 600 metri. Alla conclusione con Olympian Warning ancora leader su Naile del Sile. In terza si prodica sempre a largo Orvieto che ha all'interno Nuccio del Pri. Poi Omero Rock, quindi dal gruppo l'1-2-JIA con Innescia. Addirittura, dopo operazione in 29-7, Olympian Warning avanti a Naile del Sile. La squalipica per Nuccio del Pri. Dal gruppo c'è in recupero l'1-2-JIA, mentre Naile del Sile è passata. La si aspettava in testa, arriva allo sprint, ma il risultato non cambia. Si impone Naile del Sile con Lorenzo Besana davanti al 12 di l'1-2-JIA. In terza il quattro Omero Rock, in quarta il 2 Olympian Warning. In quinta il numero 9, Leonardo Leo. E con la sequenza numerica al traguardo 5-12-4, l'Atolino del Trotto per questa sera finisce qui. Ma torna mercoledì alle 18.30. Triste quarta e quinta e 17 al via sui 1.700 metri alla pari.